Il red carpet della 74esima mostra internazionale del cinema di Venezia, Daniela lo ha fatto a modo suo, concedendo all'etichetta un elegante abito nero longhette, ma conservando la comodità della scarpa sportiva per agevolare il passo, indice già questo, di una personalità fuori dagli schemi. Non da meno Fuad in un look trendy total white, con in mano una disinvolta bottiglietta d'acqua perché, da navigato uomo di popolo, sa che da queste parti è sempre meglio portarsi appresso da casa a quello che serve. Se un sogno poteva esserci, Daniela e Fuad, interpreti di loro stessi e della loro storia vera nel cortometraggio del regista Adriano Valerio, Mon Amour Mon Ami, lo hanno realizzato ieri pomeriggio, quando sono entrati accanto al regista nel padiglione di Venezia dove è stata proiettata la prima del loro film davanti ad un pubblico di 500 persone. Applausi scroscianti che fanno ben sperare per un possibile premio. Mon Amour Mon Ami era l'unico cortometraggio italiano in concorso e subito dopo Venezia parteciperà alla rassegna cinematografica di Toronto. A sostenere il film, regista ed interpreti, ieri a Venezia anche Giuseppe Carbone, del cinema Astra che ha fatto da ponte tra Valerio e due novelli attori, ma anche la Caritas diocesana che conosce Daniele Fuad. Dovesse vincere, chissà che il cortometraggio non diventi un vero e proprio film. La storia è di un'attualità evidente e di fatto anche drammaticamente vera. Fuad, marocchino senza lavoro che vive a Gubbio, prova ad ottenere il permesso di soggiorno combinando un matrimonio di opportunità con Daniela, barese, residente in città. Tutto è pronto per le nozze quando le carte in tavola cambiano. Quello che doveva essere un mero accordo diventa per Fuad qualcosa di più e Daniela fa il classico passo indietro perché l'amore è una cosa seria, più di un matrimonio di carta. Il lieto fine non c'è nel film, anche se si aprono spiragli di speranza, ma chissà che il lieto fine non arrivi dalla giuria della mostra di Venezia. Cenerentola per il momento è entrata nel castello del principe e ci ha lasciato la sua scarpetta di cristallo. Chissà che il principe non venga a Gubbio per restituirgliela con gli interessi.